Ehi collega, senti un po' qua questa notizia. Il sindaco ha fatto togliere tutte le panchine perché ci sono troppi drogati. Aspetta là? Sì. Adame. Escolta, non faccio io prima togli i drogati e lasciavo le panchine. Sì, ma sai che c'è ragione? Sassi come lo vede a questo sindaco qua? Boh.